Il grande fratello VIP 2 si prepara al gran finale. L'attesa puntata della finalissima, che vedrà vincitore o vincitrice uno dei concorrenti conosciuti nel corso di questa seconda edizione del reality, è prevista questa sera, in data lunedì 4 dicembre. Dopo un prolungamento della trasmissione di circa due settimane, ecco che il pubblico è pronto a scoprire il nome di colui o di colei che trionferà su questa sorprendente e fiammante stagione del grande fratello VIP. Scopriamo insieme tutte le ultime news a riguardo leggendo i dettagli che sono riportati di seguito. La seconda edizione del grande fratello VIP ci ha riservato sorrisi, delusioni, sorprese e inaspettati colpi di scena rendendo questa stagione molto infuocata poiché i gossip emersi sul web a riguardo sono stati numerosi. A confermare il grande successo del GF VIP 2 sono anche gli ascolti ottenuti che superano, di gran lunga, e i risultati conteggiati nel corso del reality trasmesso lo scorso anno, ma dopo quanto abbiamo osservato, grazie a oltre le 2000 ore di daytime trasmesse quotidianamente sulla rete di Mediaset Extra, siamo tutti molto curiosi di scoprire chi sarà il concorrente che acquisirà il titolo di vincitore del grande fratello VIP 2. Stando a quanti si vince dai più recenti sondaggi realizzati sul web, sui social ed i bookmakers, i nomi contendenti sono due di chi si tratta scopriamolo subito GF VIP 2, finale 412 Il probabile vincitore la vittoria si contende tra Aida Jespica, Giulia Dell'Ellis Video, Daniele Bossari, la bellissima Ivana Marazzova e uno dei due concorrenti che trionferà al Televoto questa sera Luca Onestini e Tonon Video. Stando alle ultime rivelazioni dei bookmakers, Daniele è stato il concorrente favorito sino a qualche settimana fa. Ad oggi, i risultati ottenuti da numerosi sondaggi, ci rivelano che a ritrovarsi sul gradino più altro verso la vittoria è Giulia Dell'Ellis la quale ha nettamente scavalcato Bossari riuscendo ad ottenere la fiducia di sostenitori che appaiono essere molto numerosi. Dunque, da questo punto di vista, è la fidanzata di Andrea Damante colei che potrebbe rivelarsi la vincitrice del GF VIP 2 Sarà realmente così per la conferma? Non ci resta che attendere l'appuntamento serale di questa sera trasmesso, come ogni lunedì, sulla rete di Canale 5. Vincitore Grande Fratello VIP 2 Vincitore Grande Fratello